Mi è arrivata la palla, ho subito pensato di stoppare e calciare, infatti poi sono stato anche fortunato a metterlo sotto l'incrocio, però sono molto contento sia per il gol ma soprattutto per la vittoria importante che abbiamo fatto in chiave salvezza e speriamo di continuare così. Abbiamo avuto una bella reazione dopo il rigore, abbiamo fatto subito una bella combinazione che ho portato al primo gol e devo dire che anche il secondo tempo con il mio gol siamo riusciti a consolidare il risultato, abbiamo fatto una bella prestazione che ci dà fiducia anche per le prossime che arriveranno che hanno uguale importanza. Sì, infatti siamo già concentrati, come ci siamo fatti scivolare ridosso le sconfitte nel periodo un po' buio, adesso ci facciamo scivolare anche i momenti positivi, ci teniamo quello che di buono abbiamo fatto, però pensiamo già a concentrarci per la prossima partita. Sicuramente un avversario forte che proverà a metterci in difficoltà e noi siamo già concentrati, ci alleneremo al massimo per affrontare al meglio questa partita con il sostegno del nostro pubblico.